Dopo tanto tempo di gelo c'è stata la stretta di mano col Presidente della Regione che mi sembra un fatto positivo, vuol dire poco ma può dire anche tanto. Io sono, come ho dimostrato in questi anni, sempre per la cooperazione istituzionale. Col Governo sta andando molto bene, la sentenza del Consiglio di Stato aiuta, adesso buoni segnali su Collana e su Brosso, se viene un segnale anche sui trasporti credo anche che con la Regione si può instaurare un rapporto di cooperazione istituzionale molto positivo.